Musica 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 Con il numero 10 Riccardo Bravo 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 Numero 1 Giovanni Spiner Mena, Arcezio Con il numero 2 Antonio Camarota Con il numero 3 Vincenzo Carandette Con il numero 4 Gabriele Il puro Il numero 5 Vincenzo L'Europa che ancora non c'è Con il numero 6 Cardine canta il professore E insieme a lui Capitano Infortunato Alecchio Andreotti Vincenzo Dai Vincenzo Dai Vincenzo Dai Vincenzo Eccolo che arriva Con il numero 6 Vincenzo De Rosa L'Europa con il numero 6 Vincenzo Il numero 6 Vincenzo Alpente Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.